John Borno ragazzi e benvenuti qui su questo nuovo video, anzi in questo nuovo video su Instagram TV come sempre ragazzi oggi andiamo a parlare di un colpo di una squadra non big che appunto non farà l'Europa ma comunque di un colpo abbastanza importante perché? Perché Crescito, Domenico Crescito, torna al Genoa è un nuovo giocatore del Genoa, facciamo una premessa, Crescito si è fatto male da sola a casa non so che gli ha cascato sul piede, apparentemente si è rotto il quinto dito del piede, si è fratturato il quinto dito del piede sinistro e adesso sta tornando dopo un infortunio, vabbè ma quelli sono insomma problemi suoi, non so perché si è operato, è andata bene ma vabbè a parte questo ragazzi, ha 31 anni quindi insomma non è poi così vecchio, ha firmato a vita a fine 35 anni poi diventerà dirigente del Genoa, quindi insomma lui possiamo dire è esplosato al Genoa, ha fatto questa avventura in Russia ha vinto ed è tornato al Genoa, tanto di cappello, deve tutto al Genoa e quindi sta dando tutto quello che deve al Genoa lo ha lanciato, ha vinto in Russia ed è tornato, quindi insomma secondo me è mossa abbastanza intelligente anche da parte di Domenico Crescito è assolutamente un colpaccio, tra l'altro può giocare terzino destro, terzino sinistro e difensore centrale anche se poi il suo ruolo ideale è il terzino sinistro, può occupare anche la fascia sinistra di centrocampo lì dove proprio il Genoa ha l'Axalt, quindi io penso che uno dei due, cioè Crescito è appena arrivato credo che o cambieranno modulo e quindi faranno giocare l'Axalt alto ma dubito perché poi il Genoa giocherà con il 352 credo proprio che l'Axalt partirà e monetizzeranno e occuperanno quel posto appunto con Domenico Crescito perché avere l'Axalt e Crescito sulla stessa fascia uno titolare e uno in panchina sarebbe veramente secondo me troppo per una squadra come il Genoa, fra l'altro l'Axalt dopo il mondiale ha preso anche un po' di valore detto questo a 0 secondo me è un colpaccio, come voto può aiutare 7,5 anche se comunque si dovrà riprendere tanta tanta roba, può giocare anche Mediano tra le altre cose e staremo a vedere se Crescito magari riguadagnerà la nazionale fatemi sapere come sempre con un commento qua sotto in questo momento che cosa ne pensi di questo colpo del Genoa lasciami dire che il video ti è piaciuto, invece dislike se ti ha fatto cagare non puoi lasciare dislike perché ridere non puoi lasciare dislike su Instagram TV, mi dispiace seguimi sempre su Instagram TV, buoncelà lalene come sempre ci vediamo ad un prossimo video